Solo poche parole per ovviamente ringraziare il consigliare che apprezza il lavoro importante portato avanti dall'assessore che sicuramente abbiamo detto è un lavoro fondamentale, necessario, che serve alla città. Adesso possiamo dire che l'aula sia vuota, sicuramente per carità, sicuramente non possiamo dire che ci sono tutti i consiglieri, questo è vero, però è anche vero che questa città ha veramente bisogno di questo regolamento, è importante non perdere altro tempo, la cosa importante che voglio sottolineare è che il percorso che l'assessore ha portato avanti è stato di piena partecipazione e condivisione, sia attraverso le commissioni che si sono svolte sul tema, sia attraverso dei percorsi di confronto, insomma con tutte le categorie che hanno voluto dare il loro contributo rispetto a questo lavoro, che però ricordiamo è anche un lavoro molto tecnico, molto legato proprio alle modalità di svolgimento dei servizi. Per questo, nonostante comunque la sollecitazione del consigliere che apprezziamo, noi crediamo che sia comunque importante oggi votarlo, per questo vi chiediamo di collaborare con noi in questo senso. Grazie.